Per capitoli, il decreto legge prevede norme per contrastare l'immigrazione clandestina, espulsioni più facili, confisca degli appartamenti affittati agli cittadini irregolari. Nel disegno di legge prevediamo, tra le altre norme, uno stop ai matrimoni di convenienza, l'introduzione del reato di accattonaggio, il reato di immigrazione clandestina, il trattenimento nei CPT fino a 18 mesi, norme più severe per i money transfer, prevediamo delle restrizioni per i ricongiungimenti, il riconoscimento dello status di rifugiato, anche qui norme che contrastano chi non ha i requisiti, la verifica più puntuale dei requisiti previsti dalla direttiva per poter soggiornare sul territorio nazionale, parlo dei cittadini comunitari. Grazie a tutti!